Questa edizione del Grande Fratello VIP continua a lasciare il segno grazie anche ad alcuni concorrenti che continuano a fare rumore, soprattutto in televisione. In queste ore, alcuni degli ultimi eliminati hanno scelto di raccontarsi ai microfoni di Verissimo con Silvia Toffanin nel ruolo di padrona di casa. Tra gli ultimi intervistati, anche il noto enologo Barou e la vincitrice Jessica Selassie. I due nella casa più spiata d'Italia hanno dato il via ad una storia molto particolare. Sono parsi sempre molto vicini, ma non si sono mai lasciati davvero andare. La giovane principessina ha sempre ammesso di provare qualcosa per lui e di voler iniziare qualcosa di serio con lui. Dal canto suo Barou ha sempre sottolineato di volere sempre amicizia e l'ultimo gesto nello studio di Verissimo. Sembra confermarlo. La giovane vincitrice del grande fratello VIP si è raccontata a cuore aperto nel corso dell'intervista con Verissimo e Silvia Toffanin. La vippona si è soffermata anche su Barou e sul loro rapporto fatto di alti e bassi nella casa più spiata d'Italia. Nel dettaglio la Selassie ha raccontato. Mi ha aiutata a rinascere, gli voglio bene e mi piace. Ci siamo sentiti e ha detto di volermi vedere. Sono più presa di lui, ma i suoi gesti ed i suoi occhi mi parlavano. Sono certa di quello che provo e lo prova anche lui solo che non lo dice. Una rivelazione che ha in parte stupito la padrona di casa, che a quel punto alla sua ospite ha voluto rivelare un dettaglio inaspettato. La conduttrice ha infatti raccontato a Jessica di aver invitato il noto enologo per una parte di intervista insieme, ma che dal vippone sarebbe arrivato un netto rifiuto. A tal proposito la Toffanin ha rivelato Io lo avevo invitato, ma lui ha preferito lasciarti il tuo spazio perché hai vinto. Queste parole della padrona di casa hanno lasciato la Selassie per un attimo senza parole. In quanto sembra evidente come il noto enologo si sia negato all'ennesimo incontro per lei. In un secondo momento la geffina ha rivelato di comprendere questo atteggiamento del vippone, anche perché in casa ha palesato sempre il suo poco feeling con le telecamere. In ogni caso questa rivelazione della Toffanin rende questa storia d'amore ancora più complicata. Un giallo difficile da risolvere.